Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi oggi parleremo della presentazione ufficiale della onda e quindi qui si aprono veramente tantissimi argomenti, tantissime discussioni da fare sulle condizioni fisiche di Mark Marquez, sul sviluppo della onda ufficiale e quindi oggi parleremo di tutti questi argomenti, veramente una delle presentazioni più seguite per quanto riguarda il pubblico, i giornalisti perché c'era veramente grande attenzione sulla più grande scuderia sconfitta della scorsa stagione e quindi parleremo, parleremo in questo video della onda ufficiale e delle condizioni fisiche di Mark Marquez. Una presentazione che è stata veramente accolta da tutti i giornalisti come veramente la più attesa del Circus. Paul Espargarò è stato chiamato da parte di Honda alla sostituzione del fratello di Mark Marquez, Alex Marquez, passato alla Honda LCR e quindi Paul Espargarò aveva sicuramente tutti gli occhi addosso perché si tratta di un top driver e dell'unico top driver di questa line-up della onda ufficiale perché Mark Marquez è in lista per essere il pilota ufficiale e compagno di Paul Espargarò però le sue condizioni sono veramente preoccupanti e quindi in casa Honda scartata ormai in maniera definitiva l'ipotesi di un sostituto come potrebbe essere Andrea Dovizioso si va verso la conferma di Steven Bradl come collaudatore barra pilota ufficiale. Parliamo quindi della Honda, Honda ufficiale che sicuramente è stata la grande delusione della scorsa stagione, zero vittorie, non succedeva da tantissimi anni quindi veramente una Honda che si è dimostrata inefficace di andare oltre Mark Marquez, quello che è capitato al campione spagnolo lo sappiamo, ne abbiamo parlato veramente a sufficienza su questo canale e quindi la Honda non ha trovato nessuna contramisura se non nella parte finale della stagione con dei miglioramenti, degli aggiornamenti sulla moto che andavano verso lo stile dei piloti, in particolare lo stile di Alex Marquez che è riuscito a strappare un paio di podi, è riuscito a strappare un paio di ottimi risultati e quindi Alex Marquez è riuscito a far vedere il suo talento, una moto che per certi versi è giudicata da tutti come inguidabile da altri piloti se non da Mark Marquez perché ormai la Honda in questi anni ha fatto una moto su misura per il campionissimo spagnolo e quindi tutti i secondi piloti sono andati mano a mano in grande difficoltà a partire da Jorge Lorenzo, in precedenza anche Dani Pedrosa quindi veramente andiamo veramente ritroso negli anni, tutti i secondi piloti sono andati veramente in difficoltà, anche Alex Marquez Alex Marquez non è un fenomeno, non è un fuoriclasse ma è sicuramente un ottimo pilota che potrebbe stare tranquillamente in una line up della MotoGP, invece anche lui il fratello del campione spagnolo è andato comunque in grande difficoltà, vedremo, vedremo perché c'è attesa per valutare la performance di Paul Spargarò che viene da un'ottima annata con la KTM, veramente ha fatto una grandissima stagione, non ha strappato veramente il titolo di più grande vincitore della KTM perché il maggior numero di vittorie l'ha fatta Miguel Oliveira però sicuramente ha strappato un numero considerevole di podi e veramente Paul Spargarò va con la massima gioia, la massima acclamazione anche giornalistica verso la sua onda ufficiale la sua prima volta in un top team, quindi i microfoni andavano ovviamente durante la presentazione verso Paul Spargarò e sono state fatte tantissime domande per quanto riguarda le sue condizioni di adattamento alla onda, parleremo anche di questo ovviamente nel corso di questo video Stefan Bradel che è stato oggetto di discussione per quanto riguarda il Circus perché ovviamente tantissimi hanno storto il naso riguardo il suo ruolo in casa onda perché un collaudatore non dovrebbe avere tutte queste possibilità di guidare comunque dei gran premi ufficiali, quindi si tratta veramente di un cavillo tecnico che ha dato fastidio comunque agli altri team e alle altre scuderie Stefan Bradel ha guidato troppo per essere un collaudatore, quindi non doveva secondo gli altri team essere dichiarato collaudatore ma doveva fungere da pilota ufficiale questo perché nella fine della scorsa stagione lui ha anche guidato a Portimao come collaudatore e quindi una piccola polemica che ha colpito la onda, ha colpito a Stefan Bradel che sicuramente ha fatto storcere il naso a non poche scuderie Stefan Bradel che quest'anno deve comunque tornare a vestire i panni del pilota ufficiale vedremo quale sarà il suo rendimento, sicuramente verrà valutato in maniera un po' più severa Stefan Bradel perché non è più il semplice collaudatore chiamato a sostituire all'improvviso Mark Markets come vedremo nella parte successiva del video sicuramente Stefan Bradel parteciperà ai test in Qatar in sostituzione di Mark Markets, quindi vedremo quale sarà il suo rendimento rendimento che dovrà essere valutato come pilota ufficiale perché quest'anno correrà i test correrà in tutto e per tutto sin dalla prima gara molto probabilmente quindi verrà valutato di conseguenza adesso però passiamo alla scheda tecnica della Honda ufficiale in più anche le condizioni di Mark Markets per quanto riguarda la scheda tecnica sicuramente un grande apporto lo darà alla Honda Paul Espargaro lui viene da un ambiente veramente molto interessante come quello della KTM ha fatto delle ottime cose come scuderia alla KTM e quindi potrà dare il suo sapere per quanto riguarda lo sviluppo della moto parliamo di sviluppo perché per quanto riguarda il prototipo base la Honda non ha chiamato per nulla per una consulenza Paul Espargaro Paul Espargaro non è stato interpellato per lo sviluppo della moto del 2021 verrà interpellato solo per i successivi aggiornamenti, i successivi sviluppi che verranno portati secondo me sin dalle prime gare quindi una moto che dovrebbe essere per i piloti perché la maggiore pecca della scorsa stagione è che la moto era solo esclusivamente per Mark Markets partiamo già con un bel punto di domanda perché Paul Espargaro non è stato ripeto neanche interpellato per quanto riguarda il prototipo base della Honda del 2021 e sarò fatto tutto sul misura di Mark Markets ma anche sui consigli che aveva dato nella parte finale Alex Markets ma soprattutto il lavoro di collaudatore di Stephen Brader quindi Paul Espargaro dovrà adattarsi ad una moto molto complicata, molto diversa dalla KTM uno stile diverso che dovrà adattarsi alla onda ufficiale perché Alex Markets e Paul Espargaro guidano in maniera completamente diversa Alex Markets è molto più aggressivo di Paul Espargaro che è un pilota abbastanza guardingo, molto intelligente, molto calmo, molto paziente e quindi sicuramente due stili diversi vedremo quale dei due sarà stato il migliore da questo punto di vista dovremo vedere la prima gara in Qatar per sviluppare un banco di prova per cominciare a valutare qual è la performance di questa Honda perché è rimasta molto abbottonata da questo punto di vista i dirigenti hanno parlato veramente poco si sono fatte anche poche domande devo essere sincero, poche domande nella live della presentazione per quanto riguarda il sviluppo di questa moto e dove andassi appunto lo sviluppo si è molto concentrato il tutto su Mark Markets e sulla questione anche di Paul Espargaro che dovrà adattarsi ad una moto molto difficile e molto complicata quello che possiamo valutare vedendo la performance della scorsa stagione è sicuramente il problema dell'anteriore l'anteriore è veramente molto critico la Honda ha sofferto nell'ultima stagione specialmente di questo problema e quindi vedremo quale sarà la modifica portata da parte dei tecnici Honda verso questa problematica molto importante sarà in tutto questo valutare l'apporto di Paul Espargaro ripeto perché Paul Espargaro è un pilota che viene da un mondo completamente diverso la KTM ma un mondo che è andato decisamente meglio rispetto alla Honda nella scorsa stagione vedremo come Paul Espargaro andrà a migliorare questo problema critico dell'anteriore quindi la sua esperienza da questo punto di vista sarà fondamentale per lo sviluppo della moto ripeto abbiamo avuto anche una problematica rispetto alla questione Stephen Bradley che ha guidato troppo per essere un collaudatore ufficiale ma ha dato sicuramente degli ottimi consigli delle ottime dritte al prototipo base della Honda del 2021 ripeto si è capito poco quale potrebbe essere la forza di questa Honda che a sensazione resta una delle moto migliori del Circus ma resta una moto difficilmente guidabile dagli altri piloti e difficilmente i tecnici cambieranno questa moto per andare incontro ai piloti si troveranno dei compromessi si troveranno dei piccoli aggiornamenti delle piccole cose che potranno cambiare ma sicuramente è difficile che questa moto verrà completamente stravolta proprio perché si parte da una base veramente molto molto potente una moto che ha migliorato da questo punto di vista la potenza massima del motore perché veramente la Honda dal punto di vista motoristico ha fatto passi da gigante arrivando quasi allo stesso livello della Ducati che per me resta il motore ancora più potente ma la Honda veramente si è avvicinata tantissimo alla Ducati e questo l'ha permesso anche negli anni passati di lottare comunque in tutto e per tutto con gli altri motori ben più potenti storicamente parlando la Honda vedremo vedremo quale sarà la scheda tecnica ma adesso tocca parlare delle condizioni di Mark Marquez perché è stato l'argomento della giornata è stato sicuramente il momento clou della presentazione Mark Marquez che si è presentato in maniera virtuale a questa presentazione piccola curiosità è stato sostituito da un sosia durante i vari filmati che inquadravano la Honda in pista un sosia ha sostituito Mark Marquez sulla sua moto ufficiale stesso casco, stessa tuta quindi questo troll face che c'è stato dalla parte della Honda che ha sostituito Mark Marquez con un sosia Mark Marquez ripeto ha risposto alle domande dei giornalisti tramite web tramite comunque in maniera virtuale e ci sono state varie domande, vari argomenti toccati veramente molto molto interessanti partiamo dalle sue condizioni fisiche lui ha detto che si sente bene si sente comunque alla grande però i medici hanno deciso comunque di fargli saltare i test in Qatar quindi in maniera ufficiale Mark Marquez salterà i test in Qatar verrà sostituito da Stefan Bradel test che erano fondamentali dal mio punto di vista perché Mark Marquez a questo punto dovesse esserci alla prima gara ufficiale ci arriverà senza aver effettuato neanche un giro di prova senza aver effettuato neanche una giornata di test una grandissima mancanza perché Mark Marquez ha saltato da tantissimo tempo troppo tempo la pista e quindi è un pilota da questo punto di vista non allenato Mark Marquez correrà un grandissimo rischio secondo me nel corso di questa stagione staremo a vedere staremo a valutare quale sarà comunque le varie scelte che effettua il pilota ma secondo me si sta correndo veramente un altro grandioso rischio un altro brutto rischio i medici da questo punto di vista hanno stipulato una deadline che è una visita medica a metà marzo per valutare le sue condizioni fisiche staremo a vedere ma tutto mi fa pensare che Mark Marquez non abbia imparato nulla dalla esperienza della scorsa stagione perché lui ha parlato ha tornato a parlare anche di quelle che ha capitato nella scorsa stagione ma mi sembra, mio modestissimo valere, che non abbia veramente per adesso imparato nulla la Honda sta spingendo insieme ai suoi sponsor per Mark Marquez in pista alla prima gara in Qatar ma secondo me si stanno veramente forzando le redini si sta veramente rischiando di combinarla grossa lui ha dichiarato che dovesse saltare la prima gara in Qatar lui penserà ovviamente di continuare il suo processo di guarigione e tentare di esserci poi alla gara successiva quindi alla seconda in calendario e man mano si va avanti finché non torna in pista una decisione che lui ha preso anche 20 giorni fa perché 20 giorni fa lui era straconvinto di esserci addirittura ai testi in Qatar quindi veramente da questo punto di vista sembra che Mark Marquez stia correndo veramente tanti rischi e stia forzando la mano per quanto riguarda la polemica che c'è stata con i medici con il dottor Mir lui ha dichiarato che non c'è stato nulla di tutto questo nessun litigio con il dottor Mir nessuna critica allo staff tecnico che lo ha mandato in pista una settimana dopo il suo incidente nella scorsa stagione e quindi i rapporti con il dottor Mir sono rimasti positivi anche se adesso aveva bisogno di un altro parere dal punto di vista medico un'altra valutazione medica sicuramente qualcosa è successo veramente i rapporti non sono come li ha descritti Mark Marquez questo lo sappiamo rapporti che si sono deteriorati e addirittura ne ho parlato in qualche video in precedenza in passato sul canale c'è stata anche quella possibilità addirittura di Mark Marquez di far causa allo staff medico che l'aveva curato quindi tutti questi rapporti idiliaci credo che non siano veritieri per quanto riguarda lui ha detto che quando ha dei vari controlli dal punto di vista medico lui ha dichiarato che a metà febbraio aveva fatto un controllo medico ed era tutto in regola tutto in linea quindi stava andando tutto per il verso giusto un controllo che c'è stato che ha sì sconsigliato Mark Marquez anzi ha vietato Mark Marquez la presenza ai test in Qatar ma ha sicuramente dato un esito positivo per quanto riguarda il suo processo di guarigione poi lui ha dichiarato che lui era boioso di tornare in pista già in Qatar ma ha rivelato questo retroscena che lui ancora adesso non ha mai toccato una moto quindi lui non è mai non solo salito su una moto ma lui veramente non ha mai neanche toccato neanche provato a mettere le mani sullo sterzo questo è un argomento molto importante molto delicato perché vuol dire che Mark Marquez in questo momento non ha per nulla la tenuta dal punto di vista sia mentale che fisico per essere in pista regolarmente lui ha detto che farà il possibile per tornare in pista e tornare ad essere il solito Mark Marquez ma vedremo perché secondo me ci vorrà veramente tanto tanto tempo e sarà difficile ritrovare il vecchio Mark Marquez perché certi rischi in pista non so se tornerà a correrli come prima questa è una tematica molto importante penso che ne parleremo ancora su questo canale anche alla luce del controllo medico che ci sarà a metà marzo che darà appunto esito positivo o negativo per la sua prima gara in Qatar quindi Mark Marquez che ha rivelato tutte queste informazioni tutti questi argomenti molto molto interessanti ma adesso parliamo dei pronostici e dei vari obiettivi della Honda molto difficile molto difficile parlare dei vari obiettivi della Honda perché si devono tenere conto di tanti fattori differenti Ole Spargaro viene da un'ottima stagione con la KTM ma non è detto che la sua stagione in Honda sia migliore sarà migliore rispetto a quella che lui ha appena concluso con la KTM mi spiego meglio lui dovrà necessariamente perdere tanto tempo per adattarsi ad una moto che non è stata neanche concepita per essere adattata al suo stile lui non ha preso parte come ho detto prima allo sviluppo della moto del prototipo base del 2021 lui semmai anzi sicuramente prenderà parte allo sviluppo successivo della moto quindi i vari aggiornamenti che verranno portati lui ha dichiarato una cosa che sinceramente mi ha fatto un attimo pensare e da una parte anche rabbrividire poi Spargarò ha dichiarato di essere consapevole di salire su una moto che non rispecchia né il suo stile di guida né è stata pensata per essere adatta a lui come pilota quindi lui ha detto che correrà dei rischi sin dalla prima gara per raggiungere il limite di questa moto per valutare la verreale potenza di questa moto fin dove lui potrà spingersi come guida come stile di guida questo è una cosa che è veramente preoccupante perché vuol dire che Paul Spargarò sin dalla prima gara si butterà non dico a kamikaze ma sarà molto aggressivo come stile di guida per cercare di raggiungere il limite per cercare di raggiungere la massima potenza di questa moto anche perché i dirigenti Honda hanno dichiarato che Paul Spargarò ha l'obiettivo di vincere il mondiale di giocarsi perlomeno la vittoria del mondiale secondo me è impossibile è impossibile che Paul Spargarò possa giocarsi il mondiale lui necessita di un grande momento di adattamento almeno nelle parti iniziali della stagione e questo dovrà necessariamente fargli perdere tanti punti e tante occasioni perché se deve raggiungere il limite in ogni gara c'è anche il rischio che possa cadere e quindi per quanto riguarda gli obiettivi della Honda bisogna necessariamente suddividere Paul Spargarò dal secondo pilota che dopo tratteremo sia nelle vesti di Stephen Braddell sia nelle vesti di Mark Marquez Paul Spargarò avrà secondo me come obiettivo quello perlomeno di classificarsi dalla quarta posizione alla decima quindi rientra più o meno in quel range di piloti come la KTM come i piloti della Honda LCR quindi io penso che sia quello comunque il potenziale di Paul Spargarò quindi quello penso possa essere il risultato che porterà in pista almeno all'inizio Paul Spargarò poi dopo vedremo vedremo perché se saprà adattarsi benissimo alla moto potrebbe anche strappare dei risultati alla Alex Marquez con dei podi quindi sicuramente da metà stagione in poi sarà sicuramente un'altra moto e un altro Paul Spargarò ma almeno nelle parti iniziali io dubito fortemente di vedere un po' le Spargarò in lotta addirittura per il podio in Honda non ho addirittura detto che lui ripeto deve giocarsi il mondiale ma secondo me questa è veramente una situazione campata per aria io in questi video ho classificato tante scuderie dalla quarta alla decima è chiaro che non tutte possono centrare questo obiettivo e chi lo centra ovviamente ha rispettato quelli che erano gli obiettivi minimi della scuderia quelli che non centreranno questo obiettivo saranno sicuramente artefici di una stagione per certi versi fallimentare per quanto riguarda la seconda guida della Honda Stefan Braddell secondo me deve avere necessariamente anche lui l'obiettivo di entrare nei primi dieci perché è grave è grave a quel punto avendo percorso i test avendo comunque già un anno di esperienza alle spalle come pilota ufficiale della Honda è grave non vedere una seconda Honda nelle prime dieci posizioni e quindi qui secondo me cambia Stefan Braddell ha l'obbligo di entrare dalla quarta alla decima posizione cosa che secondo me Paul Espargero riuscirà a fare d'inerzia perché lui è veramente un gran bel pilota questione Mark Marquez molti hanno detto Mark Marquez anche durante questa live della presentazione molti hanno detto che Mark Marquez possa ancora giocarsi il mondiale secondo me sarà impossibile al 99,99% lascio quello 0,01 che è in materia per gli extraterrestri e quindi vedremo se Mark Marquez sarà anche lui un extraterrestre Mark Marquez avrà come obiettivo principale innanzitutto quello di essere a livello degli altri appena scenderà in pista scordatevi un Mark Marquez in lotta per il podio scordatevi un Mark Marquez in lotta per vincere le gare perché almeno nella parte iniziale sarà sicuramente vedremo un Mark Marquez in grandissima difficoltà Mark Marquez appena tornerà in pista avrà l'obbligo avrà l'obbligo di essere competitivo a livello degli altri piloti questo può essere sia una decima posizione una quindicesima una quinta lui deve essere a livello degli altri perché è molto pericoloso quello che sta passando Mark Marquez Mark Marquez è un pilota che non tocca una moto non sale su una moto da quasi un anno stiamo parlando veramente di un tempo smisurato per un pilota quindi Mark Marquez innanzitutto deve pensare ad essere a livello degli altri appena tornerà in pista cercare di entrare nei primi dieci cercare di essere comunque competitivo poi si vedrà perché comunque il talento uscirà fuori e quando uscirà fuori il talento sarà sicuramente in grado di giocarsi il podio e poi le vittorie e poi magari successivamente in futuro nei prossimi anni anche il mondiale il processo di Mark Marquez secondo me è lungo difficile e duraturo penso che ci vorranno almeno due stagioni questa e la prossima per vedere un Mark Marquez che torna al 100% e anche ci sono delle possibilità che non torni come prima e non torni più al 100% ragazzi questo era il mio video sulla onda ufficiale adesso tocca a voi ditemi la vostra nei commenti sicuramente abbiamo toccato tanti argomenti diversi tante situazioni particolari un video gigantesco secondo me è venuto per quanto riguarda gli argomenti adesso tocca a voi voglio sapere la vostra nello specifico i vostri pronostici per la onda ufficiale vi invito a mettere like se questo video vi è piaciuto invito a iscrivervi a questo canale se non volete perdere nessun aggiornamento sui miei video futuro ragazzi vi saluto ciao a tutti da domenica versa ciao a tutti raga